Musica Mercoledì 12 luglio, buongiorno a tutti voi, sono le 7 del mattino, è il momento della rassegna stampa. Allora, prima di guardare i giornali, e ci sarà una ragione, ora ve la spiego, andiamo, chiedo alla regia se può staccare sul circuito internazionale. Sono le immagini che arrivano in diretta, queste da Vilnius, Lituania, perché lo sapete oggi c'è la seconda giornata di lavori del vertice della Nato. E allora, vertice della Nato che domina le principali prime pagine dei quotidiani, perché ieri ci si aspettava che qualcosa potesse accadere per quanto riguarda l'ingresso più volte sollecitato da parte di Kiev, delle autorità di Kiev, di entrare nella Nato. E' stato detto sostanzialmente, sì, certo, entrerete nella Nato, ma quando ci saranno le condizioni? Come dire, adesso ancora non ci sono queste condizioni, perché, mi permetto di sottolineare, l'ingresso dell'Ucraina nella Nato in questo momento significherebbe, in caso di attacco della Russia, un attacco contro la Nato e quindi l'alleanza atlantica sarebbe costretta, come dire, a rispondere. Quindi sarebbe uno scenario che potete immaginare catastrofico. Questo per quanto riguarda la Nato c'è molto sul vertice, naturalmente ci sono stati degli incontri bilaterali. La nostra Presidente del Consiglio ha incontrato Erdogan, il Presidente turco, e anche da lì sono stati affrontati dei dossier molto delicati come il terrorismo, l'immigrazione e quant'altro. Poi ci sono i temi italiani, si parla del PNRR, perché Bruxelles ha confermato che sono state modificate alcuni degli obiettivi del governo italiano, questo in vista della quarta rata. Poi naturalmente si parla di giustizia. Allora, andiamo a vedere il Corriere della Sera, l'apertura, Ucraina nella Nato, ma non ora. Il vertice nasce un Consiglio bilaterale con Kiev, Macron invierà emissiri a lunga gittata, F-16 dagli USA in Turchia. E poi sotto l'alleanza mancano alcune condizioni. Il Presidente Zelensky, che naturalmente non ha preso bene questa non-decisione, ha detto incertezza assurda. E poi, vi dicevo, gli incontri bilaterali, Meloni vede Erdogan. Resto per un momento, e mi scuserete se parliamo di noi, ma ieri è stato presentato anche il paninsesso della Sette. Eccolo qui, con il Presidente Cairo, Gramellini-Parenzo. Ecco le novità di la Sette. Chi è interessato le trova a pagina 40. Scendiamo sotto, però, perché ci sono anche altre questioni. Ieri è stata sentita la ragazza che accusa di violenza sessuale il figlio del Presidente del Senato, la russa. Eccolo qui, caso la russa, la ragazza mi sono sentita umiliata. E poi il PNRR, eccolo qui. Ritardi e liti, 10 modifiche per avere i fondi. Come vi dicevo, fonti di Bruxelles hanno confermato che sono stati, come dire, modificati gli obiettivi da parte del governo italiano. Questo in vista della quarta rata. E poi, questa bella immagine ci parla di sport, ci parla di tennis, perché è davvero storico. Yannick Sinner è in semifinale. Vado a giocarmela con gioia. Giocherà contro Djokovic. Vediamo altre prime pagine. Andiamo sulla Repubblica. Decide un'apertura diversa. Rai, tempo di censura. Eccolo qui. E allora, che cosa vuol dire? Accusa il direttore di Rai News Petrecca. Ha tagliato le notizie scomode per la destra. Il giornalista e il sindacato è rivolta. Lui replica, appunto, il direttore di Rai News, polemiche di Pennivendoli. Scontro nel CDA sul programma di faccia. Di facci, scusate. I vertici rinviano la decisione. E poi, però, la fotonotizia è sul vertice della Nato. La Nato non apre a Kiev dal vertice di Vilnius. Nessuna data per l'ingresso dell'Ucraina. E poi l'ira di Zelensky. Sotto ancora la notizia di tennis di Wimbledon. La prima volta di Sinneri in semifinale a Wimbledon. Andiamo a vedere la stampa. Apre sul PNRR. Allarme conti pubblici. Bruxelles pronta a esaminare i nuovi piani italiani. Perché sono stati sostanzialmente modificati. Quelli che devono essere gli obiettivi con i tempi. Tempi lunghi per i fondi. Social card da 380 euro per i più poveri. È stata presentata ieri dal governo. E poi il ministro Giorgetti. Sotto il ritardo diventerebbe un problema. Schlein, la leader del PD. Premier ostaggio di inchieste e scandali. Il giornale diretto da Giannini. Però ospita anche una lettura fatta da Mario Draghi. L'unione monetaria al Bivio. L'ha fatto in una università americana. Alla lezione americana. Il vertice della Nato. Eccolo qui. Con la stretta di mano tra Meloni e Erdogan. Il dialogo a metà tra Meloni e Erdogan. Nella rabbia di Zelensky. E poi però ci ricorda anche. Oggi c'è un importante voto al Parlamento europeo. Strasburgo. Greta guida gli attivisti. Se l'Unione europea pensa solo ai giochi elettorali. Naturalmente avete capito. Stiamo parlando di ambiente. Andiamo a vedere. Il Sole 24 Ore apre con un'intervista a Dimon. Di JP Morgan. È l'amministratore delegato. Parla naturalmente di economia, di finanza mondiale. Parla di tassi di interesse. E dice inflazione dura da battere. Arriveranno altri aumenti dei tassi. E poi il PNRR. Eccolo qui. Di spalla a sinistra. Il Governo rivede con l'Unione europea dieci obiettivi su 27 della quarta rata. E poi il Sole 24 Ore dà molto spazio anche al vertice Nato. Ucraina nella Nato. Quando ci saranno le condizioni? L'ira di Zelensky. E poi sotto la social card presentata ieri da 380 euro per la spesa. Questo a proposito dello Stato sociale. 7-6 minuti. Linea alla regia. Qualche minuto di pubblicità. E se volete ci ritroviamo. E continuiamo la lettura dei giornali. Vi aspettiamo. 7-11 minuti. Ben ritrovati. Ho preso la prima pagina del Fatto Quotidiano. Andiamo a leggerla insieme. Allora, PNRR in alto. Lo vedete. Nella foto c'è il Ministro Fitto. Dopo aver negato i ritardi il Governo modifica 10 obiettivi dall'idrogeno ai nidi. Andremo a vedere poi nel dettaglio per evitare con la quarta rata il disastro della terza. Complimenti affitto, dice ironicamente. E poi l'espressione non certo serena del Presidente Ucraino Zelensky. Lo vedete furioso per il no. Missili da Parigi. Cioè arrivano nuove armi. E poi però anche in questa caricatura della Presidente del Consiglio Meloni. Italia ultima per stipendi. Meno 7,5%. Meloni card spot e mini bonus. E poi invece in questo fotomontaggio sotto Nordio vuole salvare pure i politici mafiosi. Questo a proposito della riforma della giustizia. Che lo sapete il disegno di legge attualmente all'esame dei tecnici del Quirinale. Poi con il Via Libera passerà in Parlamento per la discussione naturalmente. Andiamo sul foglio. Perché il direttore Cerasa, lo vedete dal simbolo, parla di Ucraina. E non soltanto però difendere Kiev fa bene all'Occidente e non fa male all'Italia. Dal gas e l'economia. Altra brutta giornata per gli utili idioti del putinismo. Questo lascia intendere di cosa parla nel suo editoriale. Il giornale. Bomba sulle vacanze. Sciopero spacca estate. Agitazioni nei trasporti. A rischio ferrovie e voli in pieno esodo. E Salvini Media non paghino gli italiani. Il PNRR, eccolo qui, di taglio centrale, ritoccati dieci punti. Fitto il ministro, fitto. Assicura, c'è l'intesa con l'Unione Europea per la quarta rata. E poi singolarmente si occupa anche di che questione? Si occupa dei rifiuti a Roma. Roma, capitale dei rifiuti e della vergogna dem. Metropoli al collasso. Così è appunto quanto mette in prima pagina il giornale. Libero. Tasse, sinistra, ossessioni. Le mani della Schlein sulle nostre eredità. Ha presentato il piano fiscale del nuovo PD. Oltre al salasso sulle rendite. Più imposte sulle successioni. Riforma del catastro. A rischio le case. Andiamo a vedere il riformista. Franz Orabass. Franz Timmermans. Stiamo parlando di Europa. E poi di Matteo Renzi. Guardate questo editoriale a sinistra. Le armi di distrazione di massa. Leggiamo qualcosa insieme. Le prime righe. Un anno fa di questi tempi il caldo faceva una vittima illustre. Il governo Draghi. Avevamo un esecutivo apprezzato nel mondo e capace di trainare la ripresa economica. Fu mandato a casa per far posto a una coalizione sovranista che avrebbe dovuto risolvere tutti i problemi del paese. E invece da allora si è parlato del niente. Quante armi di distrazione di massa in questi mesi. Questo è l'inizio dell'editoriale di Matteo Renzi sul riformista. Andiamo a vedere altre pagine. Abbiamo la verità. La verità apre sul clima. Anzi come lo ha definito Paolo Sottocorona su quello che è un po' una sorta di terrorismo climatico. Allora che cosa scrive nell'apertura? Dalla nuova religione che nasconde corposi interessi, giochi sporchi sui morti di caldo. Come provano articoli di vent'anni fa a periodi bollenti, annessi e decessi a loro attribuiti. Ci sono da sempre. Ora però Repubblica si lancia in una campagna terrorizzante sui cambiamenti climatici. Sarà mica perché gli agnelli hanno investito milioni sul green? Questo è quanto scrive la verità. Vediamola avvenire. Biglietto aperto e si parla, si torna a parlare del vertice di Vilnius. La Nato conferma l'appoggio all'Ucraina ma senza una data per l'ingresso nell'alleanza. Zelensky deluso. Così si lasciano margini a Mosca. La Francia fornirà missili a lunga agitata. Vi aggiungo io perché è notizia di poco fa. Anche la Casa Bianca sta valutando di fornire dei missili a lunga agitata a Kiev. E poi però sotto ci sono anche questioni che ci riguardano nella quotidianità. Perdita record degli stipendi. Arriva una mini carta a spese. In Italia meno 7,5% in tre anni. Nell'Oxie hanno tenuto solo i salari minimi legali. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. La buona notizia che arriva dal tennis e dal torneo di Wimbledon. Magico Sinner c'è Djokovic che come sapete bene non è certo un avversario semplice. E poi però più Milan per Pioli. Questo nella parte bassa nella foto. Allora andiamo a vedere gli approfondimenti. Naturalmente partiamo dal vertice della Nato. Andiamo sul Corriere della Sera a pagina 15. Il titolo, il compromesso di Vilnius. Ma Kiev è più vicina alla Nato. Non c'è una roadmap precisa su tempi e procedure. E Zelensky che commenta dice assurdo. Allora vediamo Paolo Valentino, l'inviato del Corriere, che cosa scrive. L'Ucraina verrà invitata a entrare nella Nato quando gli alleati saranno d'accordo e quando le condizioni saranno soddisfatte. Con una frase circolare che lascia volutamente nel vago tempi, modi e procedure. I leader atlantici coprono le loro divergenze. Ma riescono a offrire all'Ucraina in guerra per la sua sovranità e indipendenza. E' un forte sostegno politico e militare. Il futuro dell'Ucraina nella Nato recita il comunicato finale nel quale i 31 paesi del patto riaffermano l'incrollabile solidarietà con il governo e il popolo ucraino nell'eroica difesa della loro nazione, del loro territorio e dei nostri valori comuni. Così il Corriere della Sera. Vediamo un altro giornale, La Stampa, lo trovate a pagina 14, come tratta la questione. Il titolo lo centra soprattutto sulla reazione del Presidente ucraino Zelensky, che si aspettava forse qualcosa in più da questo vertice. E allora, l'ira di Zelensky. Avilius e gli alleati spengono le speranze ucraine di un ingresso rapido nella Nato. Quando ci saranno le condizioni? L'abbiamo appena letto in cui lo stralcio del comunicato finale, il leader di Kiev, cioè Zelensky, dice così, fomentate la Russia. E allora, leggiamo nel dettaglio l'incertezza sull'invito della Nato a Kiev, motiva Mosca a continuare il suo terrore, l'alleanza così appare debole. Poi il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, che dice nei confronti dell'Ucraina non c'è mai stato da parte della Nato un messaggio più forte di quello di oggi. Come dire, sostiene fortemente l'ingresso dell'Ucraina, ma non ci sono al momento le condizioni. Nella parte bassa, sempre della stampa, troviamo la fornitura di F-16, sono gli aerei, lo sapete, e Svezia nel patto atlantico, la mediazione di Biden per convincere i turchi. Poi ci ricorda che il presidente Biden oggi sarà a colloquio proprio con Zelensky, in un clima di tensione, e le sue parole dice il nostro sostegno durerà fino a quando serve. Così sulla stampa, andiamo a vedere anche Repubblica, così esauriamo poi sostanzialmente questo argomento, sia l'Ucraina nella Nato, ma solo a tempo debito. La frustrazione di Zelensky, però lo sapete, uno dei temi caldi che sono stati trattati è l'ingresso della Svezia dopo il via libera che è arrivato, un via libera certo non scontato da parte della Turchia. E allora guardate qui sotto, scrive Gianluca De Feo, nel valutare quale sarà il contributo della Svezia alla Nato, non bisogna guardare i numeri, anzitutto l'adesione porterà nell'alleanza l'intera penisola scandinava, concedendo una profondità strategica mai raggiunta. L'elemento fondamentale però riguarda il Mar Baltico, tutti gli accessi a San Pietroburgo saranno circondati da paesi atlantici. L'incubo pergiore per il Cremlino. E poi vi dicevo, ci sono stati anche degli incontri bilaterali, a margine di questo vertice che vi ricordo prosegue i suoi lavori anche oggi. La Presidente del Consiglio Meloni ha incontrato, tra gli altri, il Presidente turco Erdogan, anche però il Premier britannico Sunak. E allora il titolo che sceglie il Corriere della Sera è Meloni vede Erdogan, l'influenza di Ankara per il risico libico e la lotta al terrorismo. Il incontro di un'ora, il sultano, così viene chiamato il Presidente turco Erdogan, la invita in Turchia. Vi leggo la parte finale di questo passaggio. Le fonti di Palazzo Chigi descrivono e riassumono la posizione di Meloni centrata su tre versanti. Questo a proposito dell'incontro con Erdogan. Maggiore sviluppo investimenti della Nato, non solo sul fronte orientale e sul culo asiatico, ma necessariamente anche su Africa e Mediterraneo. Maggiore valorizzazione della catena di comando europea, che ormai ha 25 membri su 27, un fortissimo sostegno all'integrità territoriale dell'Ucraina. E il tutto con un corollario esplicito. La Nato deve restare unita. Non possiamo dividerci. Questo appunto è quanto detto. C'è un'altra questione importante, e torniamo alle vicende più interne di casa nostra, è quello della giustizia. I due articoli che suscitano i dubbi di Mattarella. Allora, Marzio Breda, sempre sul Corriere della Sera, quirinalista, come dire, ha qualche forse indiscrezione ufficiosa, perché appunto il disegno di legge, cosiddetto Nordio, sulla riforma della giustizia e all'esame dei tecnici del Quirinale, prima del passaggio parlamentare. Allora, il Governo dice che quello preparato dal Ministro Nordio è solo l'anticipo di una ben più vasta riforma della giustizia, e che la parte corposa la vedremo tra l'autunno e l'inverno. Eppure, già nelle decine di articoli che formano il disegno di legge allo studio del Quirinale, non mancano nodi tali da suscitare la perplessità di Sergio Mattarella. E allora, io mi fermo qui, perché il tempo a disposizione è finito, c'è Paolo Sottocorona. Paolo, non ti faccio domande, basta stare a casa e sentire il caldo di questi giorni, però, come ci siamo detti, è anche luglio. A te, Paolo, buongiorno. Buongiorno. E che poi non c'è solo il caldo, certo c'è, di questo ovviamente continueremo a parlare, però guardate queste macchie bianche che interessano il nord, sono nuvole piuttosto intense, stanno dando delle piogge, anche localmente piuttosto forti, zona di Trieste, zona di Novara, e quindi questo evidentemente non dipende dal riscaldamento del pomeriggio, ma infatti vedete che la struttura nuvolosa è di quelle che passano, l'abbiamo visto, passano al di là delle Alpi, lì c'è spesso maltempo, temperature decisamente più basse, e ogni tanto qualcosa riesce a entrare sulle zone del nord. La previsione per la giornata di oggi vedeva infatti delle precipitazioni al nord, in qualche caso c'è anche il giallo di fenomeni intensi, forse tutto sommato ce ne saranno un po' di più di quanto previste, al di là delle Alpi, in maltempo c'è, questo insomma si era visto, poi appena si arriva in pianura, Emilia Romagna come minimo, e poi si va verso il centro e il sud, tutto torna nella fase caldo, sereno, poco nuvoloso. Giornata di domani, ancora c'è del movimento al nord, al di là delle Alpi, e dentro le Alpi, vedete Nord-Ovest, poi la parte, per esempio, il Trentino Alto Adige sembra avere precipitazioni previste piuttosto forti, qualcuna debole arriva anche in pianura, centro e sud nulla cambia, e infine la giornata di venerdì, con un'attenuazione di questa instabilità sulla zona di nord-est, mentre su quella di nord-ovest, vedete qui siamo in gran parte del Piemonte, parte della Lombardia, l'Emilia, ancora con qualche fenomeno intenso, questi potrebbero essere più nel pomeriggio che altro, però ancora in quelle zone, il tempo non è così stabile e caldo come sul resto dell'Italia, anche venerdì centro e sud, senza cambiamenti, le minime di questa mattina, in qualche caso ovviamente trascinate in qualche modo dai valori massimi piuttosto alti, vanno a superare i 22-23 gradi, se no con valori un po' più normali, intorno ai 20-21 per la stagione, insomma ci siamo, allo stato dei mari, oggi c'è un po' di movimento, legato forse indirettamente a quello che sta succedendo, al nord c'è un po' di movimento, nel senso c'è vento, in realtà venti meridionali, quindi freschi sicuramente non sono, però vedete che almeno il tirreno, parte del Merligure, parte dell'Adriatico, sono mossi o localmente molto mossi, gli altri mari assolutamente tranquilli, se volete ci vediamo intorno alle 7.55, adesso pubblicità, e poi la prima edizione del nostro telegiornale, a più tardi con Fabio Angelicchio. a più tardi, che insomma non influisce, per la prima edizione del nostro telegiornale, da qui s'intenzione, a più tardi con l'anima, a più tardi con un po' di più tardi, lo stesso che si sta succedendo, è subito da la prima edizione del nostro telegiornale. Grazie a tutti.